Oggi siamo andati a trovare i ballerini del nostro concerto durante le prove in palestra Ehm, solo che ci siamo persi Ma per fortuna alla fine li abbiamo trovati Abbiamo ballato, ci siamo scatenati e ve li abbiamo anche presentati Ecco a voi la nostra squadra Sì, ma come sei conciata, ma vuoi essere ancora messita così? Siamo in ritardo Risata per cosa? Oh mamma mia, mamma mia Ciao a tutti, è lei Sofì e insieme siamo in me contro te Oggi faremo un vlog molto particolare perché andremo insieme a conoscere i nostri ballerini I ballerini del nostro tour Avete presente il nostro concerto? Lo spettacolo che prossimamente faremo in giro per l'Italia dove potremo cantare e scatenarci insieme E noi oggi andremo a vedere le loro prove Wow, ma io non lo sapevo Ma non lo sapevi? Non avevo capito, è certo, devo mettermi una tuta Perché magari faremo qualche passo anche noi Ad accambiarmi subito Ok, ma sbrigati Eccomi qua, adesso sono pronta Io, io, io Ma perché tu ballerai pure? Breakdance Ma che stai facendo? Ti faccio girare Ma magari in alcune canzoni che sono un po' più romantiche si balleranno dei passi tipo danza classica, così Questa non è proprio danza classica Calma, calma, calmati Sono bravissima lui Alla fine finirà che sarò io la loro coreografa Sì, sì, vabbè Ovviamente noi siamo pazzi, lo sapete Ma oggi non si scherza Perché le persone che state per conoscere sono dei veri professionisti Ma posso parlare così un minuto? Ma posso? Quindi direi di non perdere altro tempo Andare nella palestra dove si stanno allenando Dei trasporto in macchina in 3, 2, 1 Eccoci in macchina Sofì ha pronte le sue codine della monelleria Le codine spolverine Dei non toccarle, grazie Devi sempre rovinare i capelli Eh beh, sono troppo belli da toccare Ah, ragazzi Noi non vediamo davvero l'ora Ma vi rendete conto? Manca sempre meno La prima data del nostro concerto sta per arrivare E partirà finalmente il nostro tour Ma voi avete preso i biglietti? Sono ancora disponibili Lo show sarà incredibile Noi oggi proveremo insieme ai ballerini Ma ci sono state già tante altre prove Le prove in cui cantiamo Le prove in cui andiamo sul palco Le prove dei costumi E magari qui su YouTube Vi continueremo a spoilerare qualcosina del tour Eccoci arrivati Ci siamo Dai Zofì Che bello, che bello Non vedo l'ora Questo dovrebbe essere il posto dove stanno provando Musica, arte e show Noi faremo uno show bellissimo Ci sarà la musica, ci sarà l'arte Mi sa che è proprio il posto giusto Questo posto è gigantesco E praticamente in ogni corridoio ci sono decine di sale da ballo Di là già ce n'è una dietro il vetro Guarda lui, questo qui ha la sbarra Che c'ha? La sbarra per fare danza classica Eh sì, ma è vuota la stanza Quindi qui non ci sono ballerini Sembra stupenda Ma secondo te posso andare? Ma che puoi andare? No, 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 no Secondo me dobbiamo andare di là Ok Qua c'è un'altra sala Proviamo a controllare? Eh no, nessun ballerino Però c'è un pianoforte Eh, cosa vorresti fare? Toi, che stai facendo? Pianoforte che non suona Bene, ottimo Non troviamo i nostri ballerini Non troviamo la nostra sala I pianoforte non funzionano Sto per avere una crisi di nervi No, 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 stai calma Ma che crisi di nervi? Se fai attenzione Sembra di sentire una nostra canzone Io non sento niente Sì, sì, sì È una nostra canzone Seguimi Ok La musica sembra provenire da qua dentro È solo che è tutto oscurato Quindi riesco a vedere dentro Non si vede chi c'è Se c'è qualcuno Proviamo a controllare dalla porta Ma che facciamo? Entriamo? Ma cosa? Non può entrare Ok, ok Entriamo Spiccia, spiccia, spiccia Sono loro Sono loro Sono loro Ma lo facciamo? Eccoli Sto ballando Ma sono tantissimi Eccolo Sono Sono i nostri ballerini Ma ti rendi conto? Cioè loro Saranno insieme a noi Al concerto più bello dell'anno Ma che dico dell'anno? Più bello della storia Saremo noi Insieme a loro E sono troppo emozionata Perché Sono bravissimi Sono i più bravi del mondo Solo che stanno ballando la canzone del signore E' sempre figlia Al concerto canteremo anche questa canzone E quindi stanno preparando la coreografia anche di questa canzone Ma ne canteremo tantissime Praticamente canteremo tutte quelle che conoscete Io direi che non perdere altro tempo di entrare subito Ok vai Siete stati bravissimi Ciao ragazzi Come va? Bene Siete contenti? Siete carichi? Noi non vediamo l'ora di stare in tour Insieme a voi Siete stati bravissimi Ma vi va a presentarvi al team Trote? Ecco loro sono la nostra squadra La squadra speciale appunto Lui è Marco Il nostro coreografo La persona che sta letteralmente pensando tutti i balli di tutte le canzoni Che sono tantissime canzoni Quindi ci sono tantissimi balli da fare E lui sta pensando uno ad uno E poi ci sta insegnando a farli A qualcosa la sta insegnando anche a noi Ma noi siamo completamente negati come sapete a ballare Però ci stiamo provando Ora però per noi è il tempo di iniziare a provare e di lavorare E quindi ci vediamo tra poco La magia del ricordo So che non finirà mai So che non finirà mai E se mi cadrà il mondo So che lo reggerai E non importa dove vai Ai 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 Sai che mi troverai Ai 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 E' meglio perdere che perdere te Anche se non vinco mai Ai 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 Bene Sofì cosa hai imparato da questa prima lezione di ballo? Che non so ballare Ma come non so di ballare? No no dai posso impegnare Ce la farò ragazzi Vi sorprenderemo Quello che avete visto oggi ovviamente Soltanto un pezzettino Dello show intero Che sarà gigantesco Ci sarà pure Pongo nello show Sarà il pre-show Farà il suo spettacolo E sarà divertentissimo Quindi ora che aspettate Prendete i biglietti E ci vediamo al nostro concerto Mecontrata il tour E noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao Ciao